Fulmini a Celserino, in casa Barletta 1922, la società biancorossa, ha essonerato il tecnico Sergio Lacava alla vigilia della prima uscita ufficiale contro la Vigortrani in Coppa Italia. Il Barletta 1922 recita il comunicato del suo dializio biancorosso, comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra, mister Sergio Lacava e del ruolo di vice allenatore, il signor Eduardo Gargiulo. La società biancorossa ringrazia Lacava e Gargiulo per l'operato degli ultimi due mesi e gli augura le migliori fortune professionali per l'avvenire, la decisione legata ad alcune divergenze di natura tecnica. Panchina, dunque, affidata a Francesco Bitetto, reduce dall'esperienza all'Unione Calcio Biceglie, nella scorsa annata con cui ha raggiunto una salvezza tranquilla subentrando a Mimmo di Corato. Il tecnico barese vanta importanti esperienze fra Serie D, Eccellenza e Lega Pro, classe 69 nel suo recente passato, allenato con risultati più che soddisfacenti, San Paolo Bari e Martina Franca dove è riuscito a vincere anche un campionato di Serie D durante la stagione 2011-2012.